Mario Mazzocca, la sinistra si dà appuntamento a Vasto per tre giorni per dire punte a capo, la sinistra non aspetta? Sì, come qualcuno l'ha definito è ancora un cantiere in costruzione, questo appuntamento di S, questa componente importante di sinistra italiana si è dato appuntamento a Vasto e in questa occasione noi non solo pareremo dei teni che attanagliano la politica italiana e quella regionale ma getteremo anche le basi per dare un contributo importante alla festa nazionale che sinistra italiana terrà proprio qui a Pescara dal primo al 4 di settembre. L'associazione S organizza questo momento di confronto perché c'è bisogno di fare punte a capo e di ripartire con una nuova situazione politica. Abbiamo chiamato punto a capo per essere chiari, sinistra italiana è un processo che è partito, sta coinvolgendo molte persone, molti territori ma come tutte le partenze è un po' claudicante, un po' zoppicante. Ecco, c'è bisogno di una reale alternativa di sinistra che però non sia solo la sinistra del no ma sia una sinistra che punti a governare per rimettere davvero come primo punto nell'agenda politica il lavoro, il popolo e l'uguaglianza tra le persone. L'associazione S esiste da circa tre anni, da chi è composta? L'associazione S è composta da molti compagni e compagne per la maggior parte provenienti da esperienze politiche, immagino penso a Rifondazioni, comunisti italiani, anche il Partito Democratico e tanti altri compagni che abbiamo incontrato per strada e che sono alle prime armi come l'esperienza politica. Ma una cosa condividiamo tutti, l'idea che la sinistra non può stare solo a guardare ma soprattutto per noi giovani c'è bisogno di scendere in campo, affrontare le difficoltà della vita, la precarietà, fare politica per cambiare lo stato di cose presenti.